Al nostro Tg il sindaco di Palma di Montechiaro Castellino non sono io la causa dei problemi Se mancano i primari e i manager non bandiscono i concorsi siamo di fronte ad un problema Così Schifani che a margine di un convegno ha confermato che entro il gennaio saranno nominati nuovi direttori generali Non escludere il centro storico dal carnevale Ribadita ieri dagli albergatori la richiesta di coinvolgere le vie dell'ex circuito della festa Proposte difficilmente accoglibili a poche settimane dalla nuova edizione L'emergenza droga e la necessità di sensibilizzare più giovani Questo lo scopo del progetto didattico che si è svolto oggi al centro di ascolto di Ribera Istituito dopo le morti per overdose che hanno colpito diversi giovani Dopo la chiesa di Santa Margherita si torna a parlare anche dell'ex convento di San Francesco Pericolante La cui area è tuttora transennata Italia Nostra di Sciacca chiede un intervento a comune deputazione regionale Manca ormai meno di un anno ad Agrigento Capitale della Cultura Ma permangono le preoccupazioni sui dubbi e ritardi attorno al progetto Situazione che preoccupa tra gli altri anche gli imprenditori del ramo turistico Bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale Mi hanno trasformato nel capro espiatorio a cui attribuire i problemi di AICA Ma in realtà io mi sto battendo solo perché le tariffe idriche a carico delle famiglie siano più basse Lo dice oggi al nostro telegiornale Stefano Castellino Sindaco di Palma di Montechiaro Uno dei comuni che non hanno aderito al prestito ponte della regione E che non ha consegnato le reti alla società consortile Al sindaco di Sciacca Fabio Termine che aveva parlato di sindaci furbi Che credono che gli altri siano stupidi Castellino replica sono certo che non si riferisse a me Il servizio è di Massimo D'Antoni Palma non ha mai fatto nulla che potesse ledere la operatività e la salute di AICA Il mio comune è trasformato nel capro espiatorio per i problemi di AICA Ma le cose stanno diversamente da come vengono raccontate Parla così al nostro telegiornale Stefano Castellino Primo cittadino di Palma di Montechiaro Uno di quei comuni insieme ad altri come Licata e Camastra Che non hanno aderito al prestito ponte della regione E non hanno nemmeno versato la quota parte di capitale sociale Oggi Palma di Montechiaro gestisce direttamente il servizio idrico E d'altra parte i propri impianti idrici non erano mai stati ceduti Nemmeno a Girgenti Acque Palma non è mai stata con Girgenti Acque AICA ha avuto ceduta attualmente la gestione delle reti del Tresor Geni Quindi sfatiamo questo altro mito E quindi è subentrata ai contratti che il consorzio aveva Tra questi contratti c'era quello con il comune di Palma di Montechiaro Eppure il comune del Gattopardo è a tutti gli effetti socio di AICA A non funzionare sono le tariffe Sono uguali a quelle emesse da Girgenti Acque Secondo me le famiglie pagano troppo Mi sto battendo contro questo sistema Dice Stefano Castellino L'ATI si è espressa all'unanimità dei presenti Riconoscendo che la tariffa da applicare è la medesima Che Sicilia Acque applica al comune di Palma o a un altro ente Una società che ha 4 milioni di perdite d'esercizio Come fa ad adottare un sistema di tariffazione come quello che lei suggerisce Il totale da riscuotere rimane fermo Io devo riscuotere 100 bene Anziché far pagare a una fascia di popolazione Un costo esorbitante lo spalmo su chi secondo me ha più possibilità economiche per poterlo pagare Quindi il totale che lei correttamente dice non viene meno Perché non sarebbe possibile oggi prevedere una diminuzione tariffaria Perché andremo anche contro il ragionamento e le direttive di Arera Però Arera consente una calibrazione di pesi degli utenti Perché la tariffa va ripensata affinché si possono agevolare le famiglie E magari chi utilizza l'acqua a scopo produttivo non la paghi in maniera esorbitante Ma magari la pagano i commercianti attualmente a Palma È evidente che se cambia il nome e la tariffazione è la medesima di quella degli centri di acqua Diventa un problema Perché non possiamo dimenticare che noi sindaci abbiamo criticato quel modo di fatturare Al contempo è anche avvilente che si attacchi Palma che non ha mai consegnato Che non ha debiti nei confronti di Aica Che è disponibile a pagare quanto acqua utilizza Quando abbiamo comuni privi di condatori idrici Che ancora hanno la tariffa forfettaria perché è illegittima E di queste cose io non ne faccio motivo di battaglia Perché so le mille difficoltà in cui operano i miei colleghi Sindaco al quale evidenzia poi che la quota parte che a Palma di Montechiaro Dovrebbe versare del prestito a Ponte ad Aica è di mezzo milione di euro Ma noi ci siamo fatti carico dei 900 mila euro di compartecipazione Che spetterebbero ad Aica sui 9 milioni di investimento Per l'ammodernamento della nostra rete idrica Quindi siamo in credito Castellino contesta l'idea che i comuni spendano soldi Per il funzionamento di un servizio idrico Che dovrebbe essere ricoperto completamente dalle bollette Così come dice la legge Mi hanno fatto diventare il parafulmine dei problemi Ma non mi sento accerchiato Dice ancora Castellino Credo però che si voglia nascondere Nascondere la reale situazione di Aica Trovando un parafulmine E magari facendo fede sul fatto che il sindaco di Palma ha le spalle larghe Ovviamente non mi riferisco ai colleghi sindaci o all'onorevole di Mauro Ma credo che vi sia diciamo in provincia questa tentazione Palma è disponibilissima a portare avanti il proprio contributo Ma non siamo qui a pagare i conti di altri Siciliacque vanda un credito milionario nei confronti di Aica E sicuramente quel buco non l'hanno fatto i cittadini di Palma Che non usufruiscono di quel servizio E' evidente che ci sono comunità che ricevono l'acqua da Aica E che gli utenti non pagano l'acqua che ricevono E a Fabio Termini che polemizzando ha detto Ci sono sindaci furbi che credono che chi fa il suo dovere sia uno stupido Il sindaco di Palma di Montechiaro così risponde Mi auguro che il collega Fabio Termini non si riferisse a me Ma me lo auguro di cuore Sia per i rapporti personali che ci legano E sia per i rapporti istituzionali che abbiamo ottenuto fino adesso Qui non ci sono sindaci furbi o sindaci meno furbi Ci sono sindaci accomunati dal voler difendere le proprie comunità Io non mi considero un sindaco furbi Ma mi considero un sindaco che ama la propria città E che magari vorrebbe che anche i cittadini della provincia Pagassero il giusto e nel rapporto costante del principio di solidarietà Che chi ha di più deve contribuire di più ai bisogni della società Cronaca 10 mesi di reclusione Pena sospesa per aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza Omettendo di comunicare all'Inps la variazione del nucleo familiare In seguito all'arresto di un parente Lo ha stabilito il Tribunale di Sciacca Che ha condannato una donna di 73 anni di Ribera La vicenda risale al 2019 La donna è accusata di aver ottenuto indebitamente poco più di 5.000 euro La difesa dell'imputata ha sostenuto la mancanza di dolo nell'azione E ha preannunciato ricorso in appello Colpi di pistola contro la porta d'ingresso dell'abitazione di un pregiudicato Nel quartiere di Villa Seta ad Agrigento L'intimidazione è avvenuta ieri sera intorno alle 10 Ad entrare in azione secondo una prima ricostruzione Due persone a volto scoperto I malviventi sono riusciti a raggiungere il primo piano della Palestina Ed esplodere diversi colpi di pistola Poi la fuga Lanciato l'allarme sul posto Sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile Che hanno avviato le indagini Sostenendo in prima battuta il proprietario dell'abitazione E sentendo in prima battuta il proprietario dell'abitazione Al vaio anche la presenza di eventuali telecamere in zona Che potrebbero aver ripreso la scena Sono stati celebrati questa mattina a Partinico E riservati soltanto alla famiglia i funerali di Francesco Bacchi Il giovane di 20 anni morto in seguito alle gravi lesioni Riportate durante una rissa scoppiata all'esterno Della discoteca Medusa di Balestrata in provincia di Palermo Il sindaco di Partinico ha proclamato per oggi il lutto cittadino Stasera ci sarà una fiaccolata per dire no ad ogni forma di violenza Intanto si apprende che ci sarebbero altre persone Oltre al ventenne arrestato Iscritte nel registro degli indagati E tra queste anche dei minorenni I funerali sono stati riservati come dicevamo Soltanto alla famiglia L'autopisi ha riscontrato una ferita alla testa I dematomi al collo e al torace Ci vorranno 60 giorni affinché i medici legali Presentino la propria relazione al pubblico ministero Andrea Gangemi il ventenne indagato per omicidio preteritenzionale E ha gli arresti domiciliari su disposizione del GIP di Palermo Mentre le indagini dei carabinieri coordinate dalla procura di Palermo Proseguono per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto Guidava senza patente un'auto Che in realtà non poteva circolare Poiché sottoposta a fermo amministrativo Ed è per questo motivo che alla vista della polizia Ha accelerato cercando di sottrarsi al posto di blocco Ma gli agenti lo hanno bloccato poco dopo Si tratta di un giovane agrigentino di 24 anni Fermato lungo viale Leonardo Sciascia Nel quartiere di Villaggio Mosè Una successiva perquisizione veicolare Ha portato alla luce anche la presenza di un coltello E per questo motivo Oltre ad una sanzione al sequestro del mezzo È scattata anche la denuncia Per possesso ingiustificato di oggetti Atti ad offendere L'automobile di proprietà della ragazza Che si trovava in sua compagnia Una 22enne La giovane è stata a sua volta denunciata In stato di libertà per resistenza pubblico ufficiale Poiché avrebbe inveito contro i poliziotti Durante la fase del sequestro dell'auto I carabinieri di Canicattì Hanno arrestato un bracciante agricolo di 50 anni Del luogo già noto alle forze dell'ordine Per il reato di maltrattamenti in famiglia L'uomo, secondo l'accusa, si sarebbe scagliato contro la moglie Insultandola e picchiandola La donna è rimasta levemente ferita Ma è stata comunque trasferita All'ospedale Barone Lombardo di Canicattì Per le cure mediche del caso I militari dell'arma sono intervenuti Nell'abitazione dei coniugi In seguito ad una segnalazione arrivata Al numero unico di emergenza Anche all'arrivo dei carabinieri L'uomo non si è calmato Continuando ad inveire Dopo essere stato portato in caserma E' stato arrestato Avviato anche il codice rosso Il protocollo che tutela le donne Vittime di violenza Cambiamo argomento Un ricorso strutturale al reclutamento di medici stranieri La necessità di concertare delle regole Con le cliniche private E critiche al sistema del numero chiuso Per l'accesso nelle facoltà di medicina Un presidente Schifani A tutto campo Quello che all'interno di un convegno Sull'emergenza personale nella sanità pubblica Che si è svolto all'ARS Ha ribadito che il 31 gennaio Saranno nominati i nuovi manager delle ASP Sentiamo il servizio Quando in certi reparti il primario non c'è più Il manager non bandisce concorsi E medici vanno nel privato Siamo di fronte ad un problema E' stato questo uno dei passaggi sicuramente più significativi Delle riflessioni di Renato Schifani Ieri all'Assemblea regionale siciliana All'interno di un convegno Sull'emergenza sanità in Sicilia La questione dei medici Che per varie ragioni Sicuramente non soltanto di convenienza economica Lasciano le corsie degli ospedali pubblici Per andare dai privati E' il tema di fondo Di una situazione oggettivamente complessa Mancano i medici Mancano i medici Non per colpa del Presidente Schifani Il Presidente Musulmanici Crocette e l'altro Io faccio un ragionamento netto Mancano i medici Perché negli anni pregressi La quantificazione dei numeri chiusi Per l'accesso alla medicina E' stata sbagliata Essendo stata sbagliata a monte La quantificazione della produzione Diciamo di risorse di offerta umana Del carattere sanitario Poi i prezzi si pagano nel ciclo Non si parla delle mediatezze E questo è un tema che ci troviamo ad affrontare Vi dico con grande difficoltà Ma con grande determinazione Abbiamo aperto un bando aperto Un bando aperto per il reglutamento di medici stanieri Ci sono state domande Non moltissime però è solo un inizio Ma stiamo lavorando su questo Così come ha fatto la Calabria Il mio amico ha chiuto Ha lavorato alcuni mesi o il sono Al reglutamento di medici stanieri Le presi, come sapete Sono notizie pubbliche da Cuba Io non ho iniziato ancora questo percorso Ma nulla mi veda di pensare Di poter imitare quella Quella iniziativa fruttuosa Perché gli ha consentito di reclutare 180, circa 200 medici Che mi si riferisce Essere di qualità Essere abbastanza bravi ed efficienti Questione questa Che oltre ad avere indotto il Presidente A criticare la quantificazione Del numero chiuso Per l'accesso alle facoltà di medicina Ha visto lo stesso Schifani annunciare Anche l'avvio di un confronto Con l'Associazione Italiana Ospedalità Privata Conosciuta anche come IOP Con l'obiettivo dichiarato Di provare a concordare Con la sanità privata Delle soluzioni Per aiutare il sistema pubblico A fronteggiare le carenze Di personale medico Credo, ha detto il Presidente Della Regione Che in un momento di crisi E carenza di medici Sia legittimo chiedere all'IOP Un momento di bonton Se il mondo della sanità privata Accoglie i nostri primari E siamo per carità In un libero mercato Un minimo di verifica Tra le parti Per individuare delle regole È giusto farla Un reciproco aiuto va dato E non si è fatto attendere La risposta dei medici Della sanità privata Luigi Triolo Presidente di IOP Palermo Si è detto disponibile Ad un'analisi condivisa Delle criticità Del servizio sanitario regionale siciliano Per comprendere gli errori Precedentemente commessi E per trovare soluzioni Coerenti e sostenibili Medici delle cliniche private Che si sono impegnate A rendere disponibili Le proprie strutture Per contribuire Alla riduzione Delle liste d'attesa E alla risoluzione Delle problematiche Relative all'emergenza urgenza Si sa Che proprio su questo versante La regione Ha deciso di investire 50 milioni di euro L'investimento più importante Però Rimane quello Da un miliardo e cento milioni Per l'aggiornamento E il completamento Della rete ospedaliera siciliana Quella tuttora in vigore Risale al 2019 E contiene anche Quel riconoscimento Per l'ospedale Giovanni Paolo II Di Sciacca Di idea di primo livello Che in realtà È per le ragioni a tutti note Una vera e propria Ferita aperta La sanità È un tema delicatissimo Che il governo Si trova ad affrontare Ha poi detto il governatore La nostra strategia È stata quella Di non di parcellizzare Gli interventi Di questo piano Ma di concentrarli Su alcuni punti Che hanno Una valenza strategica Sul miglioramento Del comparto sanitario Ospedaliero Tendiamo L'esito Del confronto Tra il governo E i nostri esperti Era un passaggio finale Con gli esperti Il ministro della salute E siamo fiduciosi Che da qui a febbraio Di poter annunziare Qual è il nostro progetto È un progetto Impegnativo Si sarebbe trovato Elenchi incompleti Per nominare Sanitario Adesso tutto pronto Adesso siamo pronti Nessuna programma Il 1 gennaio Il governo Individereà I nuovi direttori Ciali Questo è un dato Ineludibile Per me Che dobbiamo dare Anche presenza E serenità Alla sanità Anche con L'insediamento Di nuovi direttori Giali Che abbiano La programmazione Triennale Perché è giunto Il momento Di prendersi La propria responsabilità Carnevale Non escludere Il centro storico Dall'atmosfera Del carnevale Richiesta che Il neocomitato Delle attività Ricettive Del centro storico Di Sciacca Ribadito ieri All'amministrazione Alla Futuris Nel corso Di un confronto Che è stato Organizzato Dalla commissione Consiliare Attività produttive Sentiamo di cosa Si è trattato Si è svolto Su iniziativa Della commissione Consiliare Attività produttive Preseduta Da Rimondo Brucculeri L'incontro Richesto dal Comitato Delle strutture Ricettive Del centro storico In vista Della prossima Edizione Del carnevale Di Sciacca Presente Anche il sindaco Fabio Termine Giuseppe Corona Legale rappresentante Della Futuris La società Che si è giudicata E gestione della manifestazione In programma Il 10, 11, 17 e 18 febbraio Nel quartiere Della Perriera I titolari Delle strutture Ricettive Che operano Nel centro storico Da me si hanno preso atto Del fatto Che anche quest'anno La festa Non si svolgerà Nel circuito Tradizionale Del carnevale Ma hanno ugualmente Ripetutamente Chiesto un confronto Con l'amministrazione Comunale Per verificare La fattibilità Di una serie Di iniziative Finalizzate a far vivere L'atmosfera Carnascialesca Anche nel centro storico Di Sciacca Come ad esempio Musica in filo Diffusione Manufatti in cartapesta Da collocare In punti strategici Piccole sfilate E quant'altro Potesse contribuire A non escludere Completamente Dalla manifestazione La zona più importante La zona più importante Della città E' stata inoltre Chiesta la riconferma Del servizio Di bus navetta Tra il centro E il quartiere Della Perriere Con più fermate Così come la possibilità Di disporre Del materiale promozionale Della festa Per poterlo mettere A disposizione Dei turisti Anche i rappresentanti Della commissione Consigliare Attività produttive Hanno posto L'esigenza Di un centro storico Che sia vivo Accogliente Vetrina promozionale Del carnevale Con piccoli eventi Culturali Mostre E iniziative Da svolgere Nei giorni E nelle ore Antecedenti Le sfilate Di gruppi E carri Non due feste In contemporanea Ha detto il consigliere Giuseppe Catanzaro Ma l'esigenza Di garantire Un principio Di complementarietà Tra le due zone Della città In cosa Si concretizzeranno Le proposte avanzate Ieri Si vedrà E dipenderà Dall'amministrazione E dalla Futuris Seppure la società Non ha alcun obbligo Rispetto ai contenuti Del bando Che non contemplano Iniziative Nel centro storico Il comitato Che rappresenta Le strutture Ricettive Di questa Importante zona Di Sciacca Comunque hanno espresso Soddisfazione Per il confronto Di ieri Soprattutto per l'impegno Assunto dal sindaco Fabio Termine Di calendarizzare Questi incontri Per programmare Il cartellone Delle iniziative Della prossima Stagione turistica E più in generale Migliorare i servizi Sulla base Delle esigenze Prospettate Da chi opera Nel settore Rientrati in studio Ci occupiamo Di un progetto Didattico e formativo Volto alla conoscenza E alla sensibilizzazione Delle tossicodipendenze Nell'ambito di queste iniziative Alcune classi Del liceo Crispi Si sono recate in visita Al centro di ascolto Di Ribera Centro che già attivo Da tre anni Offre assistenza gratuita Contro la tossicodipendenza E l'alcol dipendenza Ne parliamo nel servizio Alcuni studenti Del liceo Crispi Di Ribera Si sono recati in visita Questa mattina Al centro di ascolto Ed orientamento Per la tossicodipendenza Ed alcol dipendenza Sito in via Trionfo In locali Della chiesa L'incontro Giunto al termine Di uno specifico Progetto didattico Si pone all'obiettivo Di fare conoscere La struttura liberese Una vera e propria Casa dei giovani Che offre consulenza E sostegno Psicologico e sociale Gratuito All'interno di un territorio Che vede aumentare Il numero di persone Che hanno bisogno E al tempo stesso Abbassare la loro Fascia d'età Oggi la scuola Francesco Crispi Ci ha coinvolto In questo progetto Che si tratta Di sensibilizzare I ragazzi Rispetto Alle tossicodipendenze Quindi alle dipendenze Patologiche Siamo state coinvolte Rispetto alle attività Del centro Proprio per far Conoscere Quali sono le nostre Attività Dove è collocato Il centro Per dare modo In questo modo Di diffondere Proprio tra i giovanissimi Si tratta di classi Terza e quarta Del liceo Già un primo gruppo È stato presente qua Abbiamo proprio Spiegato Di che cosa Ci occupiamo Hanno conosciuto Il personale Che si occupa E gestisce Il centro E oggi Sarà presenti Un altro gruppo Di ragazzi La sensibilizzazione Tra i più giovani È sicuramente Uno degli atti Pi' importanti Assolutamente Sì Bisogna proprio Iniziare Dai giovanissimi Ci siamo accorti Nello scorso incontro Che c'è comunque Un'idea Non sempre Corretta Di che cos'è La sostanza Di quali sono Soprattutto gli effetti Nocivi Quindi è bene Agire in questo senso Proprio cercando Di sensibilizzare E quanto è possibile Prevenire Per quanto riguarda La sua esperienza La vostra esperienza Quella del centro Dal punto di vista Numerico Delle statistiche Che numeri abbiamo Su territorio Sicuramente È un numero Crescente Devo dire Purtroppo Nel senso Che è sempre più Visibile La difficoltà E la possibilità Anche di accedere A un contesto Oggi più Alla portata Di tutti Quindi Sicuramente Crescente Rispetto A quando Il centro È nato Oggi Noi Contiamo Dai 15 A 20 Inserimenti Ufficiali In comunità E questo per noi È comunque Un successo Perché l'accesso Al centro Non significa Esclusivamente Un inserimento In comunità È comunque Una presa in carico Invece Per quanto riguarda La fascia d'età Delle persone coinvolte Purtroppo La fascia d'età Iniziano da giovanissimi Quindi parliamo Già dai 15 Ai 16 anni Per toccare Poi un tetto massimo Anche di 45 anni 50 anni Quindi anche Una persona adulta Il centro Si occupa Di ascolto Principalmente Di orientamento Molto spesso Infatti L'accesso Che riceviamo Dai diversi utenti È variegato Nel senso che Non conoscono Con precisione Quella che è La realtà del centro Ci occupiamo Per questo motivo Appunto Di ascoltare In primis Ma anche Di orientare In questo caso Infatti È stato molto importante Ad esempio Il lavoro sinergico Tra quelli che sono I servizi Territoriali Il CSM Ad esempio O il CERT Un'ultima riflessione Per il futuro Quali obiettivi Vi ponete L'obiettivo che ci poniamo È sempre uno E sempre uguale Cercare di dare speranza Speranza perché Il fenomeno Della tossicodipendenza Come quella Dell'alcol dipendenza O la dipendenza Anche da farmaci È un fenomeno Purtroppo crescente La realtà La riberese Purtroppo Conosce Conosce questa realtà Ma anche I paesi limitrofi Non lavoriamo Difatti Con gente Che viene Soltanto da ribera Ma anche Persone Che fanno parte Di tutto Il distretto Ecco diciamo Sociosanitario È nel buio Più totale Nuovamente La galleria Belvedere All'ingresso Ovest Della città Di Sciacca Un problema Quello All'impianto Di illuminazione Che periodicamente Si ripresenta Generando Lo stato di pericolo Non indifferente Anche nelle ore Diurne Sono diverse Le segnalazioni Pervenute Anche in questa occasione Alla nostra emittente Da parte di automobilisti Che fanno notare Lo stato di pericolosità In cui si trova La galleria Ad alcuni giorni Naturalmente Si sollecita L'ANAS Di intervenire Al più presto Per ripristinare La pubblica illuminazione Non ricevono Acqua Da 15 giorni Le abitazioni Delle vie Arenella E dei Cretesi Incontrata San Marco A segnalarlo Alla nostra redazione Alcuni residenti Nonostante risultino Garantiti Nella zona Turni giornalieri La verità È che Non riceviamo Erogazione idrica Ormai da due settimane Scrivono i cittadini I quali Si sono ripetutamente Rivolti Ad Aica Ma senza Alcun risultato Posto che nessuno Dell'azienda idrica Ha saputo Dar loro Una spiegazione O informazioni Naturalmente Viene sollecitato L'immediato ripristino Della distribuzione Idrica Il fenomeno Del randaggismo Al centro Di una interrogazione Presentata All'amministrazione Dalle consigliere Comunali Clelia Catanzaro E Carmela Sant'Angelo Le quali Segnalano In particolare La presenza Di cani randaggi Soprattutto Nelle ore serali Nell'area Del parcheggio Dell'ospedale E per le vie Della contrada Seniazza Cani randaggi Scrivono Catanzaro E Sant'Angelo La cui presenza Genera Una paura diffusa Tra i cittadini Che devono recarsi Al parcheggio Dell'ospedale Per prelevare La propria autovettura Le due consigliere Comunali Chiedono di sapere Se l'amministrazione Si ha conoscenza Di tale grave situazione Che si è generata In città Da chi vengono gestiti Cani randaggi Reimmessi sul territorio E se sono state adottate Delle iniziative Per fronteggiare Il problema Al fine di garantire L'incolumità pubblica Intervenire presso La regione siciliana Per sollecitare I lavori di ripristino La riapertura Dell'ex convento San Francesco A chiederlo La sezione locale Di Italia Nostra Che propone All'amministrazione comunale E alla deputazione Del territorio Di intervenire Concretamente Per procedere Con l'iter in questione Il progetto Di messa in sicurezza È stato redatto Dal genio civile Di Agrigento Mentre la regione Avrebbe anche Le somme A disposizione Inoltre Italia Nostra Propone Che una volta Riaperto Il bene storico Possa ospitare Il museo regionale Negli ampi locali Del primo piano Soluzione ritenuta Evidentemente Più rapida Rispetto Alla risoluzione Delle questioni Burocratiche Legate al complesso Santa Margherita E alla fondazione Pardo Ne parliamo Nel servizio Intervenire Presso la regione Siciliana Per sollecitare Il ripristino E la riapertura Dell'ex convento San Francesco Di Sciacca Lo chiede La sezione locale Di Italia Nostra Che ha inviato Una richiesta In tal senso All'amministrazione Comunale Di Sciacca E al sindaco Fabio Termine Come si ricorderà Il bene monumentale È transennato Da oltre due anni Per via Delle condizioni Precarie In cui verserebbe Uno dei cantonali Area da cui Sarebbero caduti Anche dei calcinacci Di conseguenza È stata pure Interdetta Parte di via Gatocle In cui da tempo Si può transitare Da una sola corsia Quella che va In direzione Del viare delle terme Si tratta Di un edificio storico Di grande rilevanza Per Sciacca In quanto fondato Nel 1224 Dal compagno Di Francesco D'Assisi Fra Angelo D'Arieti Considerato Il valore storico Culturale L'importanza turistica E il ruolo Di contenitore Culturale Che nel corso Degli anni È svolto Scrive Italia Nostra Pur appartenendo Al patrimonio regionale La sua chiusura È un russo Che la nostra città Non può permettersi Data la situazione Generale Di buona parte Del nostro patrimonio Immobiliare Dalle terme All'ex chiesa Di Santa Margherita A quanto pare L'Ufficio del Genio Civile D'Egrigento Da tempo Ha consegnato Presso il servizio D'Emanio regionale Il progetto di ristrutturazione Messa in sicurezza E illuminazione artistica Che ne permetterebbe La riapertura L'iter Era stato Riseguito Da vicino Nel corso La copertura Finanziaria E che basterebbe Una sollecitazione Da parte Dall'amministrazione Comunale Per spingere l'iter Per la procedura Di gara d'appalto Cosa che ad oggi Non è avvenuta La stessa cosa Varrebbe Per la nostra Rappresentanza All'Assemblea regionale Insomma Italia Nostra Invita a muoversi Non soltanto L'amministrazione Ma anche I deputati regionali Che fanno riferimento Al territorio Michele Catanzaro Carmelo Pace E Margherita La Roccaruvolo Struttura Comunque Che in capo Alla regione E ai beni termali Negli ultimi mesi È stata sempre Utilizzata ed aperta Per eventi privati A pagamento Italia Nostra Di Sciacca Inoltre Ipotizza anche Per il futuro Un diverso utilizzo Dell'ex convento San Francesco Che una volta Riaperto al pubblico Potrebbe ospitare Il museo regionale Atteso da tempo Dato che Gli ampi locali Posti a primo piano Sono perfettamente Adeguati E sufficienti A tale scopo Pronti da subito Ad ospitare I reperti Della cosiddetta Collezione Veneroso Pertanto Chiediamo Per l'ennesima volta Conclude Italia Nostra Di Sciacca Che il sindaco Si faccia carico Di tutta la questione E solleciti Gli enti proposti Alla risoluzione Monitoraggio Monitoraggio del rischio Idrogeologico In provincia Di Agrigento È finanziato Con fondi europei Un progetto Del libero consorzio Che prevede anche La realizzazione Di una rete Radio digitale Con cinque stazioni Ripetitrici In altrettanti comuni Della provincia Una di queste Sarà realizzata Sul monte San Calogero A Sciacca Sentiamo Il libero consorzio Comunale di Agrigento Ha elaborato Un progetto Di monitoraggio Del rischio Idrogeologico Sul territorio Provinciale Che è stato Finanziato Con fondi europei Il monitoraggio Sarà effettuato Con un sistema Di sensori Per il controllo Del livello Dell'acqua Di alcuni fiumi E torrenti Che attraversano I nodi critici Ritenuti più a rischio E di stazioni Meteo Per ricevere In tempo reale I dati Della piovosità In provincia È prevista Inoltre L'installazione Di telecamera Ad alta definizione Infrarossi Per un controllo Visivo Dell'andamento Idrometrico Anche nelle ore Notturne L'obiettivo Sarà quello Di consentire Durante eventuali Allerte meteo E al superamento Delle soglie Prefissato All'apertura Delle scariche Delle dighe A monte Dei corsi D'acqua Da monitorare Di interrompere Con un preavviso La circolazione Sui ponti Delle strade Provinciali La disponibilità In tempo reale Nell'arco Dell'intera giornata Dei dati È fondamentale Per eventuali Interventi E misure Di sicurezza Su situazioni Connesse A rischio Idrogeologico Prevista Anche la realizzazione Di una rete Radio digitale Diffusione VHS Con centrale Operativa Unificata Che garantirà L'operatività Anche nel caso Di interruzione Dei sistemi Ordinarie Di comunicazione La rete Sarà costituita Da cinque Stazioni ripetitrici Sul Monte Camarata Museo Genaro E chiesa Di Pompei Allicata La gara D'appalto europea È stata giudicata Provvisoriamente All'impresa Geotech Con sede A Serravalle Pistoiese Per un importo Di 261 mila euro Il progetto È stato elaborato Dall'ufficio Di protezione Civile L'iniziativa Conferma L'impegno Del settore Ambiente Del libero Consorzio Di Agrigento Diretto Da Chille Continuo Nella ricerca Di soluzioni Ed eventuali Rischi Legati Agli eventi Atmosferici Gestione Del nuovo Hot Spot Di Porto Empedocle Per una migliore Accoglienza Dei migranti È l'obiettivo Della convenzione Siglata Dalla Prefettura Di Agrigento E dalla Croce Rossa I particolari Nel servizio Il prefetto Di Agrigento Filippo Romano Ha stipulato ieri Una convenzione Con il presidente Del comitato provinciale Di Agrigento Della Croce Rossa In sua vita Per la gestione Del nuovo Hot Spot Per migranti Di Porto Empedocle La convenzione Che ha una durata Di sei mesi Prevede Che il comitato Provinciale Di Croce Rossa Si occupi Della gestione Dei servizi Di accoglienza Assistenza E integrazione Dei migranti Presso la struttura Di Porto Empedocle In particolare La Croce Rossa Si occuperà Di prima accoglienza Dei migranti Assistenza sanitaria E sociale Orientamento E inserimento sociale Formazione linguistica E culturale E attività Di sensibilizzazione E informazione La Croce Rossa La Croce Rossa italiana È una realtà Consolidata E di grande esperienza Nel settore Dell'accoglienza E dell'integrazione Dei migranti Ha dichiarato Il prefetto Filippo Romano Che ha evidenziato L'importanza Della collaborazione Per garantire Un'accoglienza Dignitosa E inclusiva I migranti Che giungono Nel territorio Agrigentino L'accoglienza Dei migranti È sempre stata Una priorità Della Croce Rossa E siamo onorati Di poter collaborare Con la prefettura Di Agrigento Per la gestione Del nuovo Hotspot Di Port Empedocle Ha commentato Da parte sua Enzo Vita A coordinare Il progetto Sarà Simona Fiorino La convenzione Con la Croce Rossa Fa seguito Al protocollo Di intesa Che la scorsa Settimana La prefettura Di Agrigento Ha stipulato Con la fondazione Farm Cultural Park Sempre con l'obiettivo Di fare rete E migliorare L'accoglienza Dei migranti E la gestione Di strutture Come l'hotspot Di Port Empedocle Dal primo gennaio 2025 Cioè tra meno di un anno Agrigento Sarà capitale Italiana Della cultura Ma il rischio Flop È dietro l'angolo I mesi Continuano a trascorrere Inesorabilmente Ma fino a questo momento Nessun atto concreto Nessuna traccia Di cantieri Per opere pubbliche L'attuale condizione Di stallo Dell'ambizioso Progetto Preoccupa Non poco Anche gli imprenditori Agrigentini Il servizio Di Davide Sardo Tra un anno Saranno trascorsi Solo 19 giorni Dal primo gennaio 2025 Giorno dell'avvento Di Agrigento Capitale Italiana Della cultura Come appare evidente Ancora si brancola Nel buio Il rischio Flop Paventato Anche dal sole 24 ore E da Repubblica Non è da molti Ritenuto infondato Da marzo scorso Da quando Agrigento È stata proclamata Capitale 2025 I mesi Si sono susseguiti Inesorabilmente Ma di atti Concreti E costruttivi Vi sono poche tracce Se non nessuna Ad esempio Nessun Cantiere per le opere pubbliche Da marzo Sono stati necessari Otto mesi Per il voto Del consiglio comunale Sullo statuto Della fondazione Che dovrà gestire Tutte le iniziative Con alcune modifiche Rispetto al progetto originario La fondazione Nemo Che ha stilato il progetto Che poi ha vinto È stata esclusa Dai soci fondatori Così come è stata Tagliata la voce Che avrebbe previsto La nomina di Roberto Albergoni Il tecnico Che ha redatto il dossier A direttore generale Della fondazione Un'altra grana Da risolvere È legata ai voti Del comune di Lampedusa E del consorzio Universitario Empedocle Entrambi i soci fondatori Che devono ancora Approvare lo statuto Ritardi Polemiche E confusione Che avrebbero indotto La regione siciliana Attraverso l'ARS A dimezzare Il contributo Per Agrigento 20-25 Che sarà di 5 milioni di euro E non più di 10 milioni Così come promesso Poco dopo la proclamazione Il sindaco Di Agrigento Francesco Miciche Si dichiara ottimista E prova a superare i ritardi Auto-approvandosi Lo statuto In seno A consorzio universitario L'attuale condizione Di stallo In cui versa L'ambizzo progetto Preoccupa E non poco Anche gli imprenditori Agrigentini Il tempo passa velocemente E non siamo certamente A posto Non siamo pronti Per una Delle iniziative Più importanti Quella che può cambiare Il volto Dell'economia Della nostra città Perché non è solo L'anno 2025 Della capitale Della cultura italiana È l'onda lunga Che riusciremo Se saremo bravi A sfruttare Trasformando La nostra città Da un turismo Prettamente balneare A un turismo Da città d'arte Utilizzare Questo milione Di presenze Che la Valle dei Templi Fa Cercando di aumentarlo Bergamo e Brescia Nell'ultimo anno Ha aumentato Del 50% Le presenze Quindi per noi Significherebbe Un risultato Di almeno 500.000 presenze In più E trasformarlo Spalmarlo Negli anni a venire Facendo sì Che Agrigento Possa finalmente Non dire più Siamo una città A vocazione turistica Ma siamo una città Turistica Ecco questo L'obiettivo Della comunità Degli imprenditori Della città Di Agrigento E anche di parte Della provincia Che si è scommessa Su questa capitale Della cultura Un appello dunque Alla politica Soprattutto All'amministrazione Comunale Che si attivi Prima possibile Che metta E dia Le possibilità E le condizioni Per poter sviluppare Agrigento capitale Della cultura Nessun cantiere Di opere pubbliche È attivo E aperto All'agrigento Non si tratta Di cantieri Si tratta Dell'idea Si tratta Appunto Di una strategia Comune Perché la capitale Della cultura Non si fa Semplicemente Rifacendo ad esempio La facciata Del palazzo comunale Ma si fa Facendo E convincendo La comunità Che questo è un risultato Di tutti E che per questo Noi dobbiamo Coinvolgere tutti Affinché ci sia il risultato E il risultato Si ottiene Ecco Determinando quel 50% Di presenze in più In un anno E questo È un risultato Che va costruito Giorno per giorno L'ultima domanda La stampa nazionale Parla di un Probabile Rischio flop Le cose ne pensate? Ma ci auguriamo Soprattutto Da Grigentino Mi auguro Che questo Venga Smentito E che non sia Un flop I presupposti Fino ad oggi Però lasciano Pensare A una figura Non certamente Bella E noi non vorremmo Essere Ecco additati Come l'esempio Negativo Della capitale Della cultura Abbiamo Le intelligenze Abbiamo Probabilmente Abbiamo poco tempo Ma mettendoci A lavorare Prima possibile Certamente Possiamo Quanto meno Determinare Un risultato Che non sarà Quello atteso Perché ci si lavora Anni e anni Per poter arrivare A questo E in realtà Siamo fermi Calta Bellotta I componenti Del gruppo Consiliare Liberamente Hanno chiesto Al presidente Del consiglio Comunale Di convocare Con urgenza Una conferenza Dei capigruppo Per affrontare La situazione Di emergenza Segnalata Da tanti cittadini Riguardante Il plesso Scolastico Di Sant'Agostino È opportuno Fare il punto Sullo stato Dei luoghi Alla luce Delle varie Criticità Segnalate Sottolinea Il capogruppo Vito Marsala Ma anche Programmare In tempi rapidi Un sopralluogo Tecnico Per una verifica E un accertamento Della situazione Che deve portare In tempi altrettanto celeri A definire Gli interventi necessari A beneficio Della comunità scolastica Negli ultimi giorni Dopo l'emergenza Scaturita Dal cattivo funzionamento Degli impianti Di riscaldamento Poi risolta I genitori Degli alunni Che frequentano Il plesso scolastico Sant'Agostino Hanno segnalato Un'illuminazione Insufficiente E infiltrazioni di acqua In alcune aule Le istituzioni Hanno il dovere Di garantire Alla popolazione scolastica Un regolare svolgimento Delle elezioni Dicono i consiglieri Di liberamente L'amministrazione comunale Invece Non sta affrontando I problemi Con la dovuta Autorevolezza Ci spostiamo a Menfi Ha aderito a Forza Italia Il consigliere comunale Michele Interrante Non cambia nulla In consiglio comunale Dove Interrante Continuerà a far parte Del gruppo consigliare 92.013 A sostegno Dell'amministrazione guidata Dal sindaco Vito Clemente Soddisfazione per l'adesione Di Interrante Viene manifestata Dai deputati Margherita Larrocca Ruvolo E Riccardo Gallo Rispettivamente Coordinatore provinciale Di Forza Italia Agrigento E vice coordinatore Regionale Del partito Adesso il libro Che vi consigliamo Da leggere Il 22 ottobre 2022 Giorgia Meloni Presta giuramento Al Quirinale È la prima presidente Del consiglio Donna Della Repubblica Italiana Anche se una Delle sue prime Mosse ufficiali Sarà quella Di esigere Di essere chiamata Il presidente E non La presidente La sua vittoria È dipesa Da molti aspetti Contingenti Tra cui L'assist Perfetto Di Mario Draghi Ma anche Dal dato immutabile Che l'Italia È un paese Naturalmente Di centrodestra La ragione Più evidente E banale Però È la motivazione Ultima spiaggia Di un elettorato Sfinito Li ho visti tutti Tranne lei Proviamola dai E così Ci ritroviamo Un capo del governo Che ascoltava Canzoni antisemite E ora Fa la guerra Alle minoranze Si blocca Se deve condannare Il fascismo Afferma che Il rom Devono nomadare E transumare E combatte Strenuamente Per difendere La famiglia La sua E basta Senza contare Le altre perle Che Andrea Scanzi Raccoglie E mette in fila Sì al blocco navale Ni alla sostituzione Etnica No ai centri Di accoglienza Che distruggono I territori Ma se pensiamo A Meloni Come un fenomeno Marginale E provvisorio Sbagliamo totalmente Non sarà facile Non sarà breve E non sarà indolore Saranno anni pesanti Ma non abbiamo Altro che questo Conoscere Reagire Resistere Lasciagura Giorgia Meloni E il suo governo Disastroso Di Andrea Scanzi Edito Paper First Siamo al termine di questa edizione del nostro telegiornale Ancora una volta grazie per averci seguito Appuntamento Alle prossime edizioni Grazie 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 Grazie